Sono Massimo Banci, sono il responsabile commerciale di Fortech SRL. Fortech SRL di fatto ha sotto il proprio controllo oggi circa 9 mila stazioni di servizio sul territorio nazionale. Svolgiamo servizi di integrazione di dati che sono utili ai nostri clienti per migliorare le proprie offerte di marketing sul prodotto petrolifero. Sono Massimiliano Donati, sono le responsabilità dell'azienda Fortech, visto che stiamo parlando di dati anche potenzialmente sensibili e importanti per le compagnie perché parliamo di dati di vendita, chiaramente aumentare anche il livello di sicurezza di quello che è tutta la nostra infrastruttura. ESET si è rivelata la scelta giusta proprio sin dai primi momenti del test. Conoscevamo già le soluzioni per una cultura aziendale che avevamo, le abbiamo ritestate mettendole anche a confronto con quelle di altri clienti e sicuramente la scelta è stata data dalla leggerezza del sistema, nel senso che quello che più ha influito è stato al di là della semplicità della console anche il fatto che l'installazione del sistema antivirus anche su macchine con risorse limitate praticamente non influiva sulle prestazioni. La soluzione è stata intelligente, è stata per lo voce e soprattutto è stata applicabile da remoto, per cui noi gestiamo qualcosa come 9000 stazioni di servizio e avere la possibilità di avere un software installabile da remoto in tempi brevi e poi poterne gestire la manutenzione con degli strumenti adeguati è stata sicuramente la scelta vincente. Un'altra cosa interessante è stata il supporto ESET che di fatto in diversi anni di utilizzo ci è servito una volta sola, quindi direi ottimo perché vuol dire che la soluzione non ha bisogno di supporto. Attraverso la soluzione ESET invece siamo riusciti ad ottenere una piattaforma centralizzata che ci permette il controllo sia della nostra infrastruttura di sicurezza che dell'infrastruttura dei clienti e quindi di sapere in qualunque momento quale macchine sono potenzialmente esposte a delle minacce. Noi abbiamo, come dico, abbiamo valutato diversi fornitori, tutti professionali. ESET ci ha dato innanzitutto la possibilità di avere una scalabilità sulle licenze, pertanto non dovendo gestire un'unica stazione di servizio, ma gestendo migliaia di stazioni di servizio avevamo bisogno di fare un'economia di scala. Io ho visto un'azienda, una grossa azienda che si è, come dire, presentata sul mercato italiano con noi in maniera molto professionale ed è, come dire, ci ha permesso di introdurre questo nuovo software nelle nostre procedure in maniera veramente molto integrata e anche molto veloce, senza dover ricorrere a onerose attività di integrazione, per cui io dico che ESET per noi oggi è un prodotto assolutamente in linea con quello che sono le nostre esigenze.